Oggi in una conferenza stampa a Bergamo si è parlato dei farmaci generici che costano meno di quelli prodotti dalle grandi case farmaceutiche e permettono quindi alle famiglie di risparmiare. Sentiamo queste interviste a Eddie Locati della Di Consum a Bergamo. Allora, Di Consum come associazione dei consumatori, oltre ovviamente a dare una mano ai consumatori allo sportello quando si trovano di fronte a dei problemi col mercato che spesso purtroppo arrivano perfino alla truffa, si impegna anche da sempre a contribuire per formare un consumatore più attento, più responsabile sul mercato stesso. Tra l'altro in una fase come questa di crisi economica dove chi spende chiaramente deve guardare anche alle possibilità della propria famiglia, a maggior ragione noi cerchiamo di contribuire in questo senso. Allora, con il contributo della Camera di Commercio di Bergamo abbiamo elaborato questo impieghevole, che poi vedete alle mie spalle, sul farmaco generico, cioè sul farmaco equivalente, che può sostituire con le stesse qualità dal punto di vista medico il farmaco di marca, chiamiamolo così, ma costa molto di meno. E' un po' di anni che c'è già nelle farmacie questo prodotto, non è ancora del tutto conosciuto ed ecco perché pensiamo di aiutare a diffondere la conoscenza. Ora, dopo la presentazione che stiamo facendo, faremo una serie di incontri in provincia, ne sono previsti un minimo di dieci nell'ambito del progetto, ma penso che ne faremo di più, proprio per diffondere la conoscenza del farmaco generico che costa meno, ripeto, e dal punto di vista medico ha le stesse funzioni del farmaco di marca.